e benvenuti a una nuova puntata di crime and comedy sempre con clara campi ciao clara ciao marco e marco champier grazie e marco champier e oggi non so perché devo ripetere se no perdo il filo e oggi una puntata speciale perché una delle vostre richieste ovviamente una delle dei personaggi che ci avete richiesto di più fin dall'inizio di della nostra avventura ed è un personaggio molto importante ovviamente è inutile che faccio suspense perché avete già letto il titolo della puntata perché oggi parliamo di big head camper ossia il cohead killer prima di cominciare a parlare di head camper ho detto che è un personaggio molto importante a più livelli perché è stato il primo serial killer intervistato da john douglas e robert wrestler nel 1978 prima ancora che fondassero il dipartimento di scienza del comportamento è da lui che hanno imparato un sacco di cose l'hanno usato come metro di paragone per una serie di motivi che vedremo ovviamente alla fine del video ma cominciamo dall'inizio allora ed nasce da una coppia male assortita ovviamente allora la mamma si chiama clarnel elisabeth stage al tempo in camper e il padre edmund emil camper secondo infatti ed camper si chiama edmund emil camper terzo esatto è il terzo perché gli americani non si limitano a dare il nome dei nonni danno proprio il nome di se stessi e va avanti forever pensa che casino a casa tutti ed si girano in 42 esatto esatto sì sono cioè non fanno figli fanno delle saghe in cui c'è il 2 il 3 e poi fanno un prequel così esatto e se posso permettermi la coppia era assolutamente male assortita ma non fisicamente perché erano tutti e due molto molto alti il il padre di ed camper appunto che si chiama anche lui ed camper era alto due metri circa e sua madre se non sbaglio superava addirittura l'1 90 sì erano tutti e due molto alti infatti tra l'altro comunque sono male assortiti litigano spesso però riescono a fare tre figli ed il nostro big ed è il secondo perché la prima è praticamente susan yugei camper e anche lei ha il nome della nonna materna poi c'è edmund emil camper terzo che è il nostro ed camper che nasce il 18 dicembre del 1948 e pesa la bellezza di 5,9 chili cioè quasi 6 chili praticamente un piccolo cinghiale tra l'altro per chi non ce l'avesse presente i bambini di solito nascono tra i 3 chili e i 3 chili e mezzo quindi qua stiamo parlando del doppio sì esatto esatto poi quando nasce un bambino con più di 4 chili se cioè viene considerato un bambino mastodontico lui è nato di 6 chili e poi dopo di lui la madre non contenta dello sforzo praticamente nel 51 mette al mondo la sorella minore di ed ossia allen lee camper che forse ha il nome più originale di tutti perché non viene da nessuno comunque il nostro ed praticamente a quattro anni il bambino più alto del mondo nel senso da praticamente più di una testa agli altri bambini della della sua età e i genitori come dicevamo prima sono male assortiti proprio caratterialmente perché continuano ovviamente a litigare e da subito la madre comincia a rinfacciare ad ed ha che un mostro perché troppo alto è troppo grosso e b che assomiglia tanto suo padre cosa che poi gli ripeterà durante la crescita eccetera e per farvi capire quanto andassero d'accordo i genitori poi una volta divorziati perché loro divorzano poi nel 57 il padre di ed dice che era un ex veterano della seconda guerra mondiale e tra l'altro aveva partecipato ai test nucleari nel pacifico cioè lui testava le bombe atomiche praticamente no lui dice di di sua moglie le missioni suicide in tempo di guerra e test della bomba atomica non erano niente in confronto a vivere con lei cioè per dire e poi per descrivere quanto lei praticamente l'abbia scosso lui dice lei mi ha scosso più di 396 giorni e notti di combattimento sul fronte quindi proprio sì 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 allora secondo me in questo caso si danno forse troppe colpe alla madre di ed però ecco non doveva essere una personcina facile comunque averci a che fare anche perché poi aveva anche problemi di alcolismo oltre a questo suo carattere sì era molto nevrotica e poi a posteriori l'hanno anche diagnosticata come una personalità borderline come abbiamo visto anche elin warnos si aveva più o meno lo stesso problema che la personalità borderline era è una personalità molto distaccata che passa facilmente alla rabbia per qualsiasi cosa molto anche egoista e cose e cose così e niente quindi in questo idilio familiare ed manifesta praticamente da fin da piccolo delle leggere diciamo ossessioni una delle quali è per la sua maestra di seconda elementare che questa qui è una testimonianza di sua sorella maggiore susan che è nata nel 43 cinque anni prima di lui a cinque anni in più di ed che tra l'altro anche lei gli causerà qualche problemino che praticamente sua sorella testimonia il fatto che ed praticamente rubasse la baionetta di suo padre sgattaiolasse fuori di casa andasse a spiare la maestra dalla finestra ok la sera così è un certo punto quando susan gli dice ma perché hai provato a baciarla per prenderlo in giro lui ed a sette anni le risponde una cosa tipo è per baciarla dovrei prima ucciderla che è una cosa abbastanza la classica risposta da bambino di quell'età no esatto cosa ti preoccupi e poi allora in questo in questo periodo in cui la famiglia ancora tutta unita prima del divorzio dei genitori secondo me c'è anche un altro episodio interessante perché praticamente loro per qualche motivo avevano degli animali di fattoria quando vivevano tutti insieme e avevano proprio i polli quindi ogni tanto tiravano il collo a un pollo e se lo mangiavano no come abbastanza normale solo che ed con questi polli ci giocava e un giorno per qualche motivo suo padre ha voluto che lui assistesse a quando seccava due polli che poi avrebbero mangiato per cena ed non era contento perché diceva ma questi sono i polli con cui io gioco sono i miei amici e poi dopo a cena non li voleva mangiare e l'hanno costretto a mangiarlo giustamente a quel punto lui decide che quindi è ok uccidere gli animali e so che tu vuoi parlare di altri episodi di uccisione animali che lui farà perché non capirà mai perché va bene uccidere i polli e non va bene uccidere i gatti e i cani esatto esatto e infatti infatti lui ha dieci anni loro hanno due gatti domestici la famiglia camper ha due gatti domestici e il primo praticamente decide di seppellirlo vivo poi una volta che vede che non si muove più eccetera lo disseppellisce ovviamente il gatto è morto allora cosa fa lo decapita e praticamente pianta la testa su una picca ma poi più avanti confesserà che è la cosa più divertente di tutta questa roba che divertente sono per lui praticamente era il fatto che a lui piacesse mentire alla famiglia sulla sorte del gatto e gli piaceva il fatto che loro gli credevano quindi era e niente quindi già già viene fuori il suo aspetto manipolativo fin dalla teneretà cosa che poi gli servirà insomma cosa che poi attuerà durante il periodo dei suoi omicidi o comunque poco prima e poi l'altro gatto finirà praticamente la sua la sua vita quando ed avrà 13 anni perché convinto che il gatto volesse più bene a sua sorella all in che non a lui quindi tutte le volte il gatto andava dalla sorella lui era un po geloso e lo come si dice e lo uccide ma nel frattempo a dieci anni praticamente i genitori di ed divorzano siamo nel 1957 il padre va via e lui rimane con la madre che già appunto lo considerava un piccolo mostro perché era di dimensioni abnormi per un bambino della sua età infatti lui a 15 anni sarà già alto 1,93 roba che io neanche se salgo sulla scaletta dell'ikea arrivò a quella pezza lì no però lui e gli rinfaccia il fatto appunto di essere molto simile al padre e che tra l'altro gli dice che nessuna donna lo vorrà mai tra l'altro la madre aveva questi problemi di alcolismo nevrosi e forse appunto la personalità borderline e si convince che ed possa fare del male e violentare le sorelle e praticamente cosa cosa fa lo chiude a dormire nel seminterrato ma non è che lo chiude cioè dice vai a dormire lì gli dà una brandina gli dà un saccappello cioè un filo con una luce e basta e lo chiude lì dentro e lui è piccolo perché comunque ha dieci anni e praticamente fa fatica a dormire ed è molto spaventato perché tra l'altro senti i topi che si muovono dentro le pareti per terra eccetera cioè insomma sono comunque quanto pare una casa di campagna anche perché avevano gli animali polli quelle cose lì quindi e poi diceva anche che sentiva i soliti rumori che si sentono nelle case perché c'era la caldaia lì dove stava lui e quindi di notte sentiva tutti questi rumori che comunque fa paura però qui io vorrei spezzare una piccola lancia a favore di cornell che non è stata per niente una brava madre ok però a questo punto suo figlio ha ammazzato due gatti anzi ne ha ammazzato uno perché l'altro lo ammazza più avanti però un gatto l'ha ammazzato sì poi in continuazione decapitava le bambole delle sorelle aveva la fissa per decapitare le bambole ammazzava comunque animali perché da quella volta che l'hanno costretto a mangiare il pollo lui ha deciso di sterminare qualsiasi animale trovasse sulla sua via quindi in effetti la paura di cornell non era proprio campata per aria anche perché con sua sorella più piccola faceva dei giochi inquietanti ed sì con lei infatti faceva dei giochi sì inquietanti giocava alla camera gas o alla sedia elettrica praticamente costringeva sua sorella allen che è appunto la più piccola dei tre a imbavagliarlo legarlo e poi a fare finti tirare la leva schiacciare il pulsante per la camera gas al che lui lì cominciava a dimenarsi a urlare come se appunto fosse o fritto sulla sedia elettrica o asfissiato dal gas sì e questa cosa vabbè tornerà anche da adulto durante il processo perché vabbè lo vediamo dopo durante il processo poi un altro gioco che faceva era arrotolare sua sorella e una sua amica dentro al tappeto e vedere chi riusciva a scappare per prima quindi magari c'era anche un inizio di eccitazione nel vedere una ragazza in difficoltà cioè questo è ancora un bambino però queste robe qua insomma è sempre più inquietante e poi quando ha 9 10 anni quindi proprio nel periodo del divorzio c'è un altro episodio che di cui lui parla in una delle sue interviste tra l'altro ed come abbiamo detto si fa intervistare ma non solo dall'fbi anche da qualsiasi emittente televisiva che ottenga il permesso di andarlo a intervistare e parla tantissimo è un logorroico è uno di quelli che t'asciuga che se lo becchi la sera quando stai tornando a casa non ti fa tornare a casa per un'ora perché parla è interessante devo dire quando parla ok però non però la tira lunga non la finisce più e poi secondo me nelle interviste si atteggia molto cioè lui lo sa di essere il serial killer e quindi si atteggia molto e quindi io non è che prendo per oro colato tutto quello che dice nelle sue interviste anche perché a volte ci sono delle interviste molto distanti di anni una dall'altra e a volte le storie un pochino cambiano quindi sì ma è quello lì e vabbè però è così è inevitabile ma lui racconta questo episodio che appunto aveva 9 10 anni e va in libreria perché c'era un evento con un mago e quindi lui va a vedere il mago in libreria e questo mago faceva un trucco con una ghigliottina ok una roba proprio easy e chiede se c'è qualche ragazza che vuole salire sul palco per farsi decapitare e sale una ragazza sui 15 16 anni che secondo ed era bellissima e lui l'idea che questa ragazza bellissima potesse venire decapitata lo fai citare anche se poi lui dice che lui razionalmente lo sapeva benissimo che non è che il mago in libreria decapita la ragazza però già solo l'idea lo intrigava e quindi questo show l'ha veramente colpito e se lo ricorderà per tutta la vita di questo episodio quindi sì sì come si ricorderà per tutta la vita di due belle esperienze di premorte che ha assaporato da ragazzino perché sua sorella susan c'è un'altra persona comunque non normalissima praticamente per scherzo lo spinge sui binari mentre sta arrivando un treno lui per il rotto della cuffia si salva e però lui poi dirà che tipo gli è passata tutta la vita davanti ha pensato di essere morto ha pensato anche di essere morto la volta che susan decide che lui doveva giacere sul fondo della piscina piena e quindi ha praticamente è arrivato un principio di annegamento infatti è qua è ironico che la madre lo metteva in cantina per paura che facesse del male alle sorelle paura abbastanza fondata ok sì 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 però poi in realtà è la sorella maggiore che cerca di ammazzarlo ad ogni occasione sì sì esatto esatto che tra l'altro non l'abbiamo detto però appunto quando lui ammazza il secondo gatto a 13 anni che lo fa pezzi eccetera decide di tenersi pezzi del gatto nell'armadio finché sua madre non non li trova a lì e lì praticamente parte un'altra sfuriata della madre e infatti il rapporto con la madre è quello che genererà i più grossi problemi perché è un rapporto assolutamente disfunzionale la madre non perde occasione per sminuirlo per farlo vergognare per infacciargli che un uomo per infacciargli che è identico al padre che nessuna donna lo vorrà mai eccetera e in più non gli dà neanche affetto perché dice se gli do affetto altrimenti mi cresce gay cosa che cioè comunque siamo negli anni 50 cioè nel senso e quindi questo bambino è praticamente ed cresce allontanato dalla madre poi appunto essendo comunque anche una persona abbastanza timida e introversa strano ecco con una famiglia del genere e anche molto alto anche i bambini anche gli altri bambini a scuola comunque lo tenevano un po in disparte lui non si è mai un'altra persona che non si è mai integrata a scuola si poi sempre in un'intervista su questo fatto di dormire in cantina lui se la beveva veramente 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 male c'è un certo punto dice che lui si sentiva come se il soggiorno fosse la terra e il piano di sopra con le camere da letto il paradiso e la cantina all'inferno quindi insomma delle idee abbastanza estreme e disagiate però insomma si sentiva perennemente escluso da questa famiglia soprattutto da sua madre che appunto odiava suo padre e di conseguenza odiava anche lui e di conseguenza probabilmente odiava anche tutti gli uomini però quello ci arriviamo dopo sì anche se poi lei si sposerà tipo tre volte sì però anche qui sono sempre relazioni che finiscono sempre malissimo no sì 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 c'è comunque un problema nel rapporto con gli uomini c'è sicuramente e invece Ed adorava suo padre che diceva che assomigliava a John Wayne sì sì infatti sì e di sua madre poi dice che è una donna malvagia è perennemente arrabbiata e malata questo qui è quello che dirà poi agli psicologi perché tra le altre cose sua madre gli vuole così bene che a 14 anni decide di sbatterlo fuori di casa come abbiamo detto lui a 15 anni è alto un metro e 93 a 14 non è che fosse proprio un tappo no lui a 14 anni va dal padre a Van News in California e scopre che il padre si è risposato e un altro figlio prova a vivere con loro qualche mese ma non ci riesce probabilmente perché appunto come dicevi tu Clara lui era molto legato al padre e soffriva di gelosia si sentiva rifiutato si sentiva più che altro rimpiazzato da sì e lo è stato e lo è stato a tutti gli effetti perché ecco lui parla sempre molto bene di suo padre nelle interviste però ragioniamo un attimo una persona che dice che la sua ex moglie era peggio che stare in guerra poi se ne va e gli lascia i figli sì quindi cioè insomma se tu veramente stai lasciando questa persona perché è così terribile perché gli stai lasciando i figli perché non te ne frega niente poi ha fatto quella classica cosa che prende se ne va si rifà un'altra famiglia e quasi non tiene i contatti con la famiglia di prima no cioè come se quello fosse una cosa chiusa e Ed però gli vuole bene a suo papà quindi dà la colpa alla nuova moglie certo e al nuovo figlio sì sì e al figlio che la moglie stava aspettando perché quando Ed va lì la moglie di suo padre era incinta e effettivamente è stata lei a chiedere suo padre di allontanare Ed perché poi effettivamente lui era inquietante faceva delle robe tipo durante il giorno chiudeva tutte le tapparelle le cose faceva tutta la casa buia con lei in casa doveva riaprire faceva un po quella roba da stalker che aveva iniziato con la maestra adesso la faceva con lei sì sì esatto e infatti sì tra l'altro sottolineiamo il fatto che lui fin da piccolo appunto aveva questa specie di fantasia malata e oscura cioè lui ad esempio come dicevi tu che forse è passato un po così lui ad esempio le bambole della sorella minore ci giocava poi per lui il gioco era decapitarle e tagliare appunto le mani di queste bambole che alcune erano barbi altre tra l'altro le mani ha iniziato a tagliarle perché si è accorto che quando staccava la testa tante volte riuscivano più o meno a riparare la bambola ah sì e quindi se stacchi le mani invece non le riattacchi più quindi però la sua versione era che a lui piaceva distruggere le cose a cui le loro sorelle tenevano più che perché gli piaceva decapitare le bambole anche se poi dopo mi racconti l'episodio del mago che ti ha segnato quindi insomma decapitare le persone ti eccita eh sì probabilmente probabilmente gli è rimasta sta cosa della decapitazione fin fin da piccolo perché il primo gatto che ha ucciso comunque l'ha decapitato eh sì poi polli li ha visti decapitare eccetera quindi insomma comunque rimane qualche mese col padre e poi se ne va e in realtà i servizi sociali lo affidano ai nonni paterni a mode matilda you gay camper e edmund emil camper primo perché è il capostipite il capostipite solo che lui si affezionava molto al nonno e infatti tra altro loro vivono in una casa di campagna anche i nonni molto isolata a north fork in california e il nonno era un contadino andava a lavorare nei campi la nonna invece era esattamente come la madre di ed molto severa molto rigida voleva che ed lavorasse in casa lui in questo momento qua c'ha 15 anni e ed mentre con i nonni gli viene regalato questo fucile calibro 22 che è un fucile abbastanza piccolo da ragazzini cioè nel senso non è un c'è il calibro 22 anche per i fucili è un po più potente quello delle pistole di cui parliamo sempre ma comunque non è un calibro chissà che se non che a lui piace andare in giro a sparare gli animali perché però è il motivo per cui gli ha regalato il fucile a dirla tutta sì ma sì ma probabilmente dove andare a caccia non a sparare agli animali dalla fattoria agli uccelli così e quindi cosa succede che questo fucile glielo sequestrano e lo nascondono ovviamente lui sa dove è nascosto e infatti il 27 agosto del 1964 che il nonno era andato in giro per i campi voleva cioè andare andato a lavorare ed vuole andare con lui in realtà la nonna lo costringe a stare in casa con lei ad aiutarla a fare i mestieri in casa ok se non che parte l'ennesima discussione in cui ed viene ovviamente sgridato dalla nonna allora lui cosa fa la nonna in cucina lui prende va a prendere il fucile e torna in cucina la nonna gli dice non azzardarti a sparare ancora agli uccelli e infatti lui le spara in fronte lei cade poi gli spara altre volte alla schiena poi prende un coltello da cucina e comincia ad accolterlarla sì e tra l'altro la coltella sopra al libro di fiabe che sua nonna stava scrivendo così un dettaglio macabro che vi do così a gratis esatto se non che ovviamente il nonno prima o poi deve tornare ed si rende conto che il nonno avrebbe sofferto tantissimo si sarebbe arrabbiato tantissimo per la morte della nonna allora lo aspetta in veranda quando il nonno scende dalla sul vialetto d'ingresso ed spara anche a lui e lo lascia morto ovviamente di fianco alla macchina sul vialetto d'ingresso in quel momento lì si sente un po perso certo e cosa fa chiama sua mamma dicendo mamma ho sparato i nonni cosa devo fare e la mamma gli dice chiama la polizia allora lui chiama la polizia e nel 64 viene rinchiuso da Tascadero che è un carcere per chi ha problemi mentali anche minori e al momento in cui deve spiegare il perché ha fatto cioè ha ammazzato i nonni a fucilate lui dice e volevo vedere cosa succede a ucciderla nonna cosa si prova a ucciderla nonna una cosa del genere infatti è interessante che appunto per la nonna vedere cosa si prova ad ucciderla e poi perché gli stava sulle balle tanto e gli ricordava molto sua mamma cosa ironica perché era la mamma era la nonna paterna quindi non è che dici vabbè la mamma di mia mamma però lui sosteneva che nelle famiglie succede spesso questa dinamica perché tu comunque la teoria afroidiana no ti sposi con qualcuno che ti ricorda il genitore del sesso opposto e quindi è naturale che che si assomiglino e poi trovo interessante che appunto il nonno l'abbia ucciso per pietà anche perché se non sbaglio il nonno stava iniziando a mostrare segni di demenza senile qualcosa del genere e quindi da solo non sarebbe riuscito a vivere da solo senza l'aiuto della nonna e quindi lui quasi ha provato empatia per il nonno non voleva dargli la sofferenza di vedere sua moglie morta e quindi l'ha ucciso per empatia che so che suona stranissimo eh sì sì però mi colpisce che l'unica volta che lui provi una sorta di empatia per una delle sue vittime poi dopo vedremo anche le altre è la volta che ha ucciso comunque un uomo cioè io credo che lui non veda le donne come esseri umani le vede come proprio una specie a parte assolutamente ma infatti ma infatti dopo appunto vedremo come fa gli omicidi e sono comunque no è che a data scadero è praticamente che è appunto un ospedale di massima sicurezza per malati di mente e ovviamente gli fanno all'inizio gli fanno una diagnosi in realtà durante il processo e viene diagnosticato come schizofrenico paranoico cioè soffre dicono che soffra di schizofrenia paranoide in realtà poi a data scadero gli fanno altri esami e innanzitutto risulta un primo cui di 138 sì che è altissimo poi gli faranno altri esami prima di dimetterlo nel come si dice nel 69 e il cui risulterà di 145 addirittura sì quindi assolutamente un genio anche se io ho letto che è molto strano fare più test del cui così ravvicinati e quindi probabilmente ed si era memorizzato il test e quindi il secondo risultato forse un po pompato d'altro canto c'è il suo fratellastro quello che era nella pancia della nuova moglie di sua madre mentre lui aveva lì che lui ha vabbè ma lui è anche lui è un po' fuori di testa ha rilasciato un'intervista inquetantissima dove dice che secondo lui in realtà ed è un super mega genio e ha fatto finta di essere più scemo per il test del cui però vabbè sta teoria qui apprenderei molto con le pinze sì sì secondo me il risultato giusto è il 138 mia opinione sì sì è possibile in realtà lui dimostra molta intelligenza durante appunto la detenzione a scadero anche perché praticamente innanzitutto cambia riesce a far cambiare la diagnosi da schizofrenia paranoide a comportamento passivo aggressivo che è una deviazione della personalità un po' minore no della schizofrenia paranoide anche perché la schizofrenia paranoide è considerata una malattia mentale e quindi è difficile che esci che esci da lì ma non solo lui riesce a fare amicizia con praticamente tutti gli psichiatri del di questo di questo carcere per malati mentali e addirittura diventa collaboratore di questi psichiatri nel senso che lui innanzitutto lo considerano come un detenuto modello sì 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 e poi lo considerano quasi un loro pari perché gli praticamente tutti i test che devono fare a quelli detenuti lì dentro che comunque non è che proprio gente di una certa finezza sono tutti i maniaci sessuali sono tutti assassini così è praticamente lui gli fa i test sulla personalità eh sì ma perché giustamente come dici tu loro su the head comunque possono fare affidamento perché è una persona molto intelligente e molto a contatto con la realtà normalmente poi c'ha dei momenti in cui non non è più però in una giornata tipo lui è assolutamente presente a contatto con la realtà però stiamo parlando credo che il termine sia giusto perché erano i tempi che erano di un manicomio criminale sì sì ora non c'è più quella terminologia però era tutti gli effetti manicomio criminale quindi c'era veramente di tutto dentro ed è una persona che addirittura è più intelligente degli psicologi che lavorano lì dentro e quindi è assurdo ma allo stesso tempo è capibile il perché l'abbiano utilizzato per farlo lavorare insomma esatto esatto e tra l'altro appunto dicono di lui che era un ottimo lavoratore questo non è tipico di un sociopatico cosa che lui in realtà è tantissimo ed era anche orgoglioso del suo lavoro il suo lavoro appunto consisteva nel diagnosticar cioè aiutare gli psichiatri a diagnosticare gli altri fornendo test test che tra l'altro lui aiuta gli psichiatri a sviluppare e addirittura lui crea un'altra scala per misurare la deviazione della personalità quella che dicevamo nella puntata di Aileen che lei è risultata 32 su su 40 eccetera ok quella lì è una scala della sociopatia ok ed in realtà aiuta a sviluppare un'altra scala che si chiama over to stility scale ok che è un'altra misurazione lui tra l'altro entra mentre detenuto entra nella jc che è un'associazione di sviluppo per leadership e business e cose del genere che c'era lì in california e accoglie membri molto intelligenti ovviamente tra i 18 e 40 anni praticamente gli aiuta a sviluppare le proprie capacità e praticamente il 18 dicembre del 1969 il giorno del suo ventunesimo compleanno ed che nel frattempo è arrivato ai 2 metri 0 6 pesa 150 chili viene rilasciato in libertà vigilata da da Tascadero e contro ogni pretente volere degli psichiatri viene riaffidato alla madre esatto perché in realtà lui era stato proprio rilasciato con la raccomandazione di non stare dalla madre perché in realtà la diagnosi che avevano fatto loro è che lui alla fine era un membro produttivo della società ma aveva problemi con l'autorità femminile familiare quindi la nonna già l'aveva seccata alla prossima vittima designata poteva essere la madre con cui c'erano dei contrasti comunque forti che non aiutavano la stabilità mentale di Ed esatto esatto e nel frattempo la madre appunto si era già risposata due volte aveva già divorziato due volte infatti quando Ed esce ha il cognome di stranberg adesso è praticamente clarnell elisabeth stranberg Ed va a vivere con lei è obbligato ovviamente dal dalla libertà condizionale a frequentare l'università e frequente il community camp community college della della california intanto la madre invece lavora per l'università di santa cruz come segretaria e tra l'altro tutti dicono che sono sua madre è una persona amorevole è una persona affidabile e le ragazze con lei sono sono super protette eccetera se non che quando Ed è con la madre ovviamente lui ha accesso all'università e lei gli dice cose tipo hai visto tutte queste ragazze queste ragazze ti schifano tu non riuscirei mai averle tutte perché loro sono troppo per te così altro poi secondo me non è vero perché allora sai che poi a crime in comedy io devo sempre parlare dell'aspetto estetico perché è fondamentale secondo me era anche carino camper però vabbè io sono una che se metti a uno dei baffi senza barba gli occhiali mi piace quindi vabbè non conto però secondo me non era non era affatto e poi appunto anche se è uno che ti asciuga quando parla però è anche interessante quindi cioè poverino poi dopo vedendo tutto quello che ha fatto anche vaffanculo però sì sì no poverino questa cosa che lui non si sentiva adatto anche se in effetti lui dice che essendo rimasto cinque anni in manicomio criminale nel periodo dell'adolescenza lui quando esce non ha idea di come relazionarsi ai suoi coetanei e poi in un'intervista dice anche che lui ha perso quel periodo della sua vita e si è completamente perso la rivoluzione dei figli dei fiori e quindi non capisce come mai quando è entrato i giovani erano in un certo modo e quando esce sono tutti figli dei fiori lui si è perso un passaggio eh sì e sì tra l'altro lui appunto viene liberato nel 69 dopo che sono già stati effettuati gli omicidi della famiglia Manson eccetera che sono dell'agosto del 69 e poi vabbè quando parleremo di Manson lo diremo meglio e tanti sostengono che l'agosto del 69 e sono finiti gli anni 60 sì non non a dicembre comunque appunto lui si è perso tutta questa rivoluzione sessuale tutta questa cosa però in quel periodo lì quando appunto va a vivere dalla madre che è lì comunque vicino a Santa Cruz in realtà sua madre vive ad Aptos in California che è praticamente attaccata a Santa Cruz infatti è molto vicina anche all'università e praticamente Ed appunto un po' frequenta l'università un po' deve cercarsi lavoro e comincia a fare lavori umili in realtà lui cercava lavoro per affrancarsi alla madre per andarsene sì no e infatti riesce poi prima di tutto prova a entrare nella polizia esatto che questa è una cosa fondamentale questa è una cosa fondamentale perché lui prova a entrare nella polizia vuole entrare nella stradale nei chips praticamente che sono appunto i California Way Patrols i chips e però non viene preso per problemi fisici nel senso che è alto 2,6 metri pesa 150 kg e ci sono dei limiti fisici di altezza massimi anche e di peso insomma non fanno le divise così grosse come quelle che ma infatti banalmente perché io ci ho riflettuto su sta cosa banalmente è proprio un problema di divise perché alla fine cioè per fare quel lavoro uno così grande e grosso ma è perfetto cioè chiunque si spaventa quando arriva lui per mantenere l'ordine sarebbe perfetto però è esageratamente alto e io ho pensato che probabilmente perché non producono le divise così alte che io dico ma cazzo fagli una detrazione sullo stipendio diglielo prima gli dici guarda abbiamo sto problema se vuoi ti assumiamo però ti dobbiamo detrarre non lo so 50 dollari al mese perché dobbiamo farti la divisa su misura non era più poi vabbè meglio che camper non l'hanno preso in polizia però non ha senso il concept proprio no ma infatti anche perché poi appunto parlavamo di douglas all'inizio e poi ed camper sarà il primo che parlerà di questa cosa della polizia e douglas poi riscontrerà questa cosa della volontà di entrare nella polizia in tanti altri sociopatici perché la polizia è un'ottima scusa per avere del potere soprattutto verso chi non ne ha avuto in passato quindi il distintivo la pistola ti danno il potere sugli altri e ti autorizzano anche a malmenare i cattivi esatto quindi sfogare tutta la tua frustrazione Ed questo voleva però Ed era proprio ossessionato appunto da questa cosa della polizia infatti si compra una moto e comincia a frequentare i bar e i ristoranti frequentati dai poliziotti soprattutto il jury room a Santa Cruz sì e i poliziotti cominciano a volergli bene perché lui comunque era un chiacchierone faceva amicizia era gentilissimo eccetera cominciano a volergli bene lo chiamano Big Ed e più avanti diranno che era un logorroico rompicoglioni ma molto simpatico che è anche quello che ho detto io a vedere dall'intervista e poi scusa comunque mi fa riderissimo la cosa signor Kemper guardi non lo possiamo assumere in polizia perché lei è troppo alto pazienza per i nonni ammazzati a colpi di fucile quello andava bene il problema è che è troppo alto sì in realtà appunto per farsi prendere in polizia lui fa di tutto per cancellare i suoi i suoi trascorsi e infatti lui continua ad andare dagli psicologi ovviamente per la libertà vigilata e nel 72 in realtà nel novembre del 72 i suoi crimini da minorenne gli vengono cancellati sì quindi si ritrova con la fedina penale pulita esatto esatto infatti l'ultimo rapporto dei suoi psichiatri per la libertà vigilata l'ho trovato l'ho scritto adesso lo leggo dice che se dovessi vedere questo paziente senza alcuna storia disponibile o se lui non mi raccontasse niente penserei che abbiamo a che fare con un giovane molto ben adattato e che ha avuto un'iniziativa intelligenza ed è libero da malattie psichiatriche è mia opinione che abbia risposto in modo eccellente agli anni di trattamento e riabilitazione e non vedrai alcun motivo psichiatrico per considerarlo pericoloso per se stesso o per qualsiasi membro della società poiché questo può concedergli più libertà d'adulto per sviluppare il suo potenziale considererei ragionevole avere un'espunzione permanente dei suoi precedenti reati da minore e infatti cioè è praticamente questo questa commissione psichiatrica che poi l'ha liberato in effetti ci ha visto lungo perché perché poi ed ha espresso anzi stava già esprimendo tutto il suo potenziale che perché questo qua è del novembre del 72 e lui nel novembre del 72 aveva già ucciso tre ragazze esatto esatto e arriviamo appunto agli omicidi allora come abbiamo detto lui frequentava i bar dei poliziotti si era comprato la moto solo che appunto nel 72 lui fa un grosso incidente in moto fa un grosso incidente in moto si fa male un braccio e viene ricompensato viene ricompensato viene risarcito con 15 mila dollari che al cambio attuale sono poco più di 90 mila dollari ai tempi e lui con questi soldi si compra una macchina intanto lui ha trovato lavoro presso il dipartimento delle autostrade della california e con quei soldi lì finalmente riesce ad affrancarsi dalla madre che tra l'altro poi lui dichiara anche una volta arrestato per l'ultima volta dichiara che cose tipo mia madre io ci siamo lanciati litigate orribili solo litigate orribili violente e feroci non ho mai avuto una discussione verbale così feroce con nessuno avrebbe fatto appugni con un uomo ma questa era cioè ma lei era mia madre e non sopportavo il pensiero che io e lei ci picchiassimo insisteva solo per cose stupide ricordo che c'è stata una grossa litigata perché non sapeva che mi fossi lavato i denti sì sì era era un rapporto assolutamente malatissimo tra l'altro lui diceva che sua madre a volte con i suoi compagni non lo so litigava e a volte lei metteva le mani addosso ai compagni perché lei comunque era una donna più alta di 1,90 ben messa quindi normalmente un uomo anzi praticamente sempre un uomo è più forte rispetto a una donna parlando di di corporature medie ma chiaramente una donna così grossa e così aggressiva può far male e poi diceva che se l'uomo rispondeva dandogli uno schiaffone così lei iniziava a dire ah sai uno che picchi le donne quindi sì sì fantastico eh sì e sì e tra l'altro appunto queste litigate vengono sentite anche spesso dai vicini e anche vicini appunto hanno quest'idea che il rapporto tra Ed e sua madre non sia particolarmente idilliaco se non che appunto lui trova lavoro come alla divisione dell'autostrade della California e grazie a quei soldi lì si trasferisce ad Alameda insieme in un appartamento con un suo amico non so un comunque con un coinquilino e appunto per chi non lo sapesse Santa Cruz o comunque lì dove vive Ed è nella Monterrey Bay mentre Alameda è praticamente a fianco di San Francisco che è molto più a nord nella cioè praticamente dall'altra parte alla Baia di San Francisco sì e c'è una certa distanza però anche in questo caso qua Ed praticamente ha la mente il fatto che la madre continuasse a chiamarlo ripetutamente al telefono e soprattutto gli facesse delle improvvisate per andarlo a trovare e ovviamente cioè non è che poi stavano tranquilli così no litigavano sì perché tra di loro c'era proprio il classico rapporto abusivo che a volte si vede nelle coppie che lo sai che non va bene stare con quella persona che vi abusate a vicenda magari presi singolarmente siete anche persone normali no però sapete che non dovete stare insieme e non si riescono a lasciare esatto esatto e però appunto Ed che comunque cioè nel senso adesso vive lontano ha avuto questo incidente ha preso questi soldi si compra una macchina una Ford Galaxy del 69 che è molto simile alla macchina della polizia cioè comunque è un modello molto aderente alla macchina della polizia e per lavoro lui viaggia tanto in California viaggia tanto ovviamente siamo dopo gli anni 60 no cioè siamo all'inizio degli anni 70 cioè non c'è più la rivoluzione sessuale ma comunque c'è un senso maggiore di libertà ci sono un sacco di autostoppiste e lui comincia a prendere a bordo queste autostoppiste e praticamente lui dice che ne ha raccolte almeno 150 prima che praticamente gli venissero le sue fantasie su queste autostoppiste che lui tra l'altro queste fantasie le chiama i suoi little zapples che cosa carina che cosa carina i piccoli zapples sì che poi molti scusa molti sostengono che lui desse questi passaggi per fare pratica per imparare come a tirare su autostoppiste che ci potessero fidare di lui però poi nelle interviste lui dice che non era assolutamente così lui dava i passaggi perché come avevo fatto riferimento prima si sentiva di aver perso la sua adolescenza e di non riuscire a connettere con altri giovani e quindi dare un passaggio gli dava modo di comunque chiacchierare e instaurare una sorta di rapporto con le persone non che poi formasse amicizie durature dava solo il passaggio però gli permetteva di confrontarsi con ragazzi e soprattutto ragazze di quell'età quindi questa è la sua versione poi dopo più avanti dirà che diventa un po' un gioco quello di raccogliere gli autostoppisti ma che non stava facendo pratica esatto esatto in realtà poi a John Douglas adesso torniamo a John Douglas che va intervistato nel 78 dopo che lui è già stato arrestato e tutto quanto all'inizio John Douglas dice che Ed Kemper non si fidava tanto di loro due di Douglas e ovviamente Ressler non si fidava tanto però poi in realtà ha cominciato a lasciarsi andare quando ha capito che Ressler e Douglas sapevano a menadito il suo caso conoscevano a menadito il suo caso ed erano lì per conoscere lui non per fare l'ennesima intervista e quindi Douglas dice che Kemper ha cominciato a lasciarsi andare perché poteva raccontare le sue verità e su questa cosa delle autostoppiste lui aveva messo a punto una tecnica che praticamente quando c'era l'autostoppista che lui si fermava Ed si fermava siccome lui era un gigante di appunto oltre due metri grosso praticamente lui chiedeva dove dove andare l'autostoppista lei gli diceva devo andare là e lui cosa faceva? lui faceva un semplice gesto guardava l'orologio perché così la persona che praticamente saliva in macchina con lui diceva ok questa persona è una persona impegnata aveva l'idea di avere a che fare con una persona impegnata e quindi con una persona affidabile e quindi con una persona che non avrebbe fatto del male peccato che nel frattempo in macchina quando Ed aveva i suoi little zappos praticamente cominciava ad accumulare innanzitutto aveva una radio VHF con l'antenna per ascoltare le frequenze della polizia chiaramente uno è quello seconda cosa cominciava a praticamente stoccare in macchina cose come corde manette coltelli busse di plastica borsoni coperte e cominciava a fare amicizia con queste autostoppiste tanto che riusciva a prendere sempre più confidenza e per gioco a volte le prendeva in braccio le sollevava poi comunque io mi immagino anche una ragazza nel senso con questo omone che sembra simpatico perché comunque lui cioè nessuno dice che che Ed non fosse gentile e non fosse tra virgolette simpatico cioè magari si sentono appunto al sicuro e comunque altezza eccetera si fanno prendere in braccio si sentono anche un po' accudite si ma era quello che dicevo prima secondo me Ed avrebbe potuto rimorchiare se non fosse stato così tanto disadattato cioè le carte regola se non fosse stato per la totale psicopatia ce le avrebbe pure avute si anche se non fosse stato convinto da sua madre che quelle ragazze lì non poteva averle in modo normale cioè comunque lui le ragazze in realtà poi avrà una storia abbastanza breve con una ragazza conosciuta sulla spiaggia perché vabbè ovviamente è finita dopo l'arresto e il padre non ha voluto che venga che venisse diffuso il nome di questa ragazza e ci sta e ci sta comunque il 7 maggio del 1972 Mary Anne Pesce e Anita Lucchessa vengono appunto stanno facendo l'autostop e vengono caricate da Ed che praticamente da Berkeley guida verso Alameda e praticamente si infratta in un bosco tira fuori la pistola e le minaccia una calibro 22 anche lui e praticamente costringe Anita Lucchessa a entrare nel bagagliaio della macchina e praticamente amanetta Mary Anne Pesce e tra l'altro lui poi dirà che mentre amanettava Mary Anne Pesce con la mano le sfiora il seno e si sente molto in imbarazzo e anzi le chiede scusami sì le chiede scusa le dice ops mi dispiace scusa ti volevo solo amanettare per ucciderti ma non volevo certo molestarti sfiorandoti il seno per sbaglio perché quello sarebbe imperdonabile esatto esatto invece poi prende la coltellata e soffocarla e mettere il corpo nel bagagliaio ha tirato fuori Anita ha fatto la stessa cosa con lei e poi li ha nascosti tutti e due nel bagagliaio ovviamente dopo averla avvolta in delle coperte eccetera quello lì invece no scusa non si chiede e cosa succede che lui se le porta nel suo appartamento di Alameda viene fermato tra l'altro da un poliziotto perché ha un fanalino rotto il classico fanalino rotto e Ed è così gentile e questa qui non sarà l'unica volta in cui viene fermato con delle ragazze morte in macchina ed è così gentile che il poliziotto lo lascia andare con un richiamo neanche tanto ufficiale perché è successo anche a Dahmer questa cosa mentre per Ted Bundy il fanalino rotto è stata la condanna invece anche Jeffrey Dahmer aveva i rimasugli della sua ultima vittima in un sacco quando viene fermato però la polizia non controlla i sacchi lui dice sto andando di scarica a buttare la spazzatura e lo lasciano andare quindi questa cosa ritorna spesso insomma sì sì e praticamente lui appunto riesce appunto a passare a passare indenne il fermo di questo poliziotto porta i due corpi delle due ragazze nel suo appartamento e le fotografa ovviamente il suo coinquilino non c'è e le fotografa nude dopo di che fa sesso con loro e quindi ci mettiamo la necrofilia e gli fa a pezzi i corpi fa a pezzi i corpi e butta i corpi da una parte si tiene le teste per buttarle in un precipizio perché sì ma anche per averle un po' più tempo in casa le teste sì sì perché uno dei piaceri di Ed era praticamente fare del sesso con la bocca delle teste decapitate che tra l'altro ha anche un nome questa cosa qua ah bello che è praticamente l'affellazio violenta che è il rumatio che è praticamente un affellazio dove la persona che la pratica è una parte passiva e la persona che la subisce praticamente la parte attiva cioè proprio come usare la testa come come ok ok e poi ma io ho letto qualche parte che a volte poi sperimentava con queste teste quindi a volte lo infilava in gola ma dall'altro lato non dalla bocca sì sì perché poi a volte giocava anche con gli organi interni delle vittime eccetera ma ricordiamoci che gli psicologi avevano detto che non era un pericolo lui no 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 infatti assolutamente assolutamente lui non era un pericolo anzi era poteva dare tanto alla società come e praticamente vabbè i corpi di queste due ragazze vengono buttati appunto sul monte lomma prieta le teste da un'altra parte e verrà trovata solo la testa di Mary Ann Pesce in realtà il corpo di di Mary Ann e il corpo e la testa di Anita Lucchessa non verranno mai più trovati e praticamente pochi mesi dopo il 14 settembre del 72 Ed dà un passaggio a Aiko Q che è una ragazzina di 15 anni che aveva perso l'autobus per andare a lezione di danza lui le dà un passaggio e qua succede una cosa che potrebbe anche essere divertente nel senso che ovviamente la supera la baia di San Francisco e la porta sempre in un posto appartato la minaccia con una pistola non si sa cosa succede eccetera e lui rimane chiuso fuori dalla macchina chiede a costringere la ragazza ad aprirgli a farla entrare e lei ovviamente gli riapre la macchina e lui rientra in macchina e lei aveva la pistola in macchina e lui aveva lasciato la pistola in macchina chiusa dentro la macchina con una ragazza e lei non ma aveva 15 anni doveva essere terrorizzata non sapeva cosa stava facendo assolutamente lui la dice questa cosa in un'intervista addirittura una vittima mi ha aperto la porta cioè come se quasi le sue vittime se la sono andate a cercare perché si sono fidate di lui io ho tanto quell'impressione lì che lui la usi quasi come una scusa cioè una ragazza sveglia non sarebbe salita in macchina con me invece queste qui sono cascate nella nella recita che stavo facendo perché poi lui appunto aveva tutte le tecniche per sembrare più più affidabile possibile ma infatti infatti e praticamente vabbè non siamo qua a descrivere tutto l'omicidio della povera Aikiku se non che lui appunto se la mette nel bagagliaio il corpo va in giro tra l'altro si ferma in un bar a bere qualche drink ovviamente a chiacchierare con la polizia col corpo di lei nel bagagliaio e praticamente poi vabbè la porta a casa e fa tutto quello che deve fare in realtà quando lui apre il bagagliaio che vede il corpo lui dirà che era orgoglioso come il pescatore che aveva preso il suo pesce più più ricercato eh sì ma qua vedi io perché io mi ero fissata con quell'episodio dei polli ma secondo me lì gli è scattata qualcosa nella testa che se è ok uccidere i polli poi è ok uccidere magari l'alce e mettere la testa in esposizione nella stanza nella tavernetta allora perché non è ok con gli esseri umani cioè credo che gli si sia non lo so qualcosa sì non lo so gli si è incrociato qualche filo nella testa e ragionava così eh sì sì allora la sempre Douglas eccetera dicono che praticamente il fatto che lui poi smembrasse i cadaveri non era una questione di ad esempio di sadismo ma era una questione estrema di possesso perché poi appunto lui dichiarerà anche che poi vabbè questa cosa qui in realtà la verrà la ritratterà anche lui con alcune ha praticato il cannibalismo mangiando tipo della della carne delle gambe cotta in casseruola poi con riso non ho capito no no ce l'ho ce l'ho alla ricetta attenzione lui aveva congelato della carne perché l'ha mangiata molti giorni dopo la cotta con delle cipolle e poi ci ha aggiunto i mac and cheese quindi pasta e formaggio giusto una schifezza sì e tra l'altro la povera Aikiku non verrà il corpo verrà ritrovato ovviamente molto dopo la madre disseminerà Berkeley di manifesti con avete visto mia figlia e non riceverà mai risposta e neanche dalla polizia e questo succede a settembre del 72 il 14 settembre del 72 a novembre a Ed vengono cancellati i precedenti come minore il 7 gennaio del 73 è la volta di Cindy Schall o Schall che è praticamente la è una babysitter è anche lei molto molto giovane e tra l'altro è una babysitter di alcuni poliziotti cioè dei figli dei poliziotti non dei poliziotti adulti no no dei figli dei figli e questo qua praticamente è un è un omicidio più più particolare perché lui Ed intanto ha avuto problemi di soldi non riesce più a mantenersi da solo ed è costretto a tornare a casa dalla madre praticamente al lo dico perché è importante al 609A di Old Street ad Aptos California e lui adesso vive con ancora con sua madre litigano ancora spesso eccetera e questa Cindy è praticamente la sua quarta vittima quarta vittima e per una volta quarta vittima senza contare i nonni chiariamo sì 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 solo delle solo delle delle ragazze e praticamente anche lei viene decapitata nel bagno nella vasca da bagno della madre il corpo viene fatto a pezzi se non che il corpo viene cioè viene buttato Ed butta via solo i resti del corpo la testa se la tiene nell'armadio più giorni e poi la seppellisce praticamente sotto la finestra della camera di sua madre dicendo che cioè nel senso ovviamente l'ha detto dopo che è stato arrestato dicendo che visto che sua madre voleva sempre essere ammirata adesso c'era qualcuno che l'ammirava vita natural durante esatto perché ecco in inglese rende di più perché dice mia madre voleva sempre che qualcuno looked up to her cioè guarda in alto verso di lei sarebbe la traduzione letterale che però poi significa ammirare e quindi aveva fatto anche questo bel gioco di parole esatto esatto e tornando appunto al problema che Ed era gentile e sapeva intortare e manipolare un po' tutti succede la stessa cosa a Rosalind Thorpe e Alison Liu altre due ragazze che lui prende all'università tra l'altro piccolo passo indietro tra il 72 e il 73 c'era un certo Herbert Mullen che è un altro serial killer che agiva a Santa Cruz quindi all'inizio degli anni 70 Santa Cruz era veramente un posto di merda in cui vivere sì che tra l'altro poi era un posto super pacifico anche una meta vacanziera una cosa con studenti giovani era proprio una città tranquillissima e nel 72 viene rinominata Murder Capital of the World cioè la capitale mondiale dell'omicidio eh sì perché Santa Cruz era proprio lì sulla baia c'era l'università quindi c'erano i giovani e ovviamente si poteva andare subito al mare e tutto quanto tra l'altro in California quindi non in Alaska cioè non è in una baia in Alaska in California dove fa sempre caldo eccetera quindi era veramente attirava un sacco un sacco di ragazze e tra l'altro questo Mullen lo vediamo dopo lo vediamo dopo perché poi torna però comunque ci sono cioè a questo punto sono scomparse quattro ragazze poi ne spariranno altre e è anche successo che sono stati brutalmente uccisi un prete un senzatetto poi una famiglia intera e poi un gruppo di ragazzi maschi adolescenti questo tutto insieme quindi la polizia può anche ipotizzare che c'è un unico pazzo maniaco che uccide senza criterio perché comunque già queste vittime che ho detto non hanno quasi nulla in comune quindi ci puoi buttare dentro pure le studentesse tanto qua le vittime non hanno niente in comune e quindi anche la polizia non sapeva che pesci pigliare sì perché tra l'altro le prime tre vittime e non erano proprio lì a Santa Cruz solo esatto solo Cindy la quarta era già lì a Santa Cruz quindi la polizia non vede che c'è una disparità di corpi anche perché appunto Mullen faceva vittime molto differenti tra di loro sì ok e niente appunto il 5 febbraio del 73 è il turno di Rosalind Torpe e Alison Liu che Ed prende prima una poi l'altra all'interno dell'USCS che è l'università di Santa Cruz tra l'altro c'era anche la storia che le ragazze cioè nel senso i giovani dovevano stare attenti a chi chiedevano i passaggi perché praticamente era stato consigliato di cioè di farsi dare passaggi solo da chi aveva l'adesivo dell'università del campus la madre di Ed lavora in quel cazzo di campus e lui ha quell'adesivo appiccicato sul parabrezza della macchina esatto e quindi e quindi ci sono queste due ragazze qua che lui minaccia con la pistola e praticamente a cui spara tra l'altro aveva sparato anche a Cindy quella che poi aveva seppellito la testa solo che lui era abbastanza furbo visto che comunque conosceva la polizia conosceva i loro metodi eccetera e quindi estrae sempre i colpi dai corpi quindi la polizia anche se trova il corpo non trova il proiettile e quindi non si mette a indagare sul proiettile e praticamente a queste due ragazze qua gli spara in macchina gli spara in macchina le avvolge nelle coperte che lui aveva in macchina e una guardia del campus lo ferma con queste due ragazze agonizzanti in macchina e lui la convince che queste due ragazze erano tutte tra una festa queste due si sono ubriacate e lui le sta riportando a casa peccato che la casa è quella di sua madre dove ovviamente solita cosa le farà a pezzi le violenterà i corpi e tutto quanto e il 20 aprile del 73 si arriva alla fine quasi della nostra storia sì anche se volevo dire una cosa su altre due autostoppiste che aveva tirato su sì ah sì allora mentre Ed commette tutti questi efferati omicidi lui comunque continua a dare passaggi alle persone perché come dicevo prima lui diceva che caricare le persone non era solo un prepararsi a poi agli omicidi ma era un gioco in che cosa consisteva questo gioco nel vedere se riusciva a trattenersi dall'ammazzare la gente quindi lui ha detto nel momento in cui ho messo la pistola in macchina qualcosa succederà voglio vedere se riesco a non arrivare a quel punto quindi un giorno carica altre due ragazze lui piaceva molto caricare le coppie di ragazze come abbiamo visto carica due ragazze che devono andare all'università e le due ragazze gli dicono che strada fare e lui si accorge che hanno sbagliato strada le ragazze dice no ragazze dobbiamo andare di là e nota che le due si irrigidiscono a quel punto e lui dice ah caspita hanno paura di me ma stanno proprio sbagliando cioè se io le porto di là non solo non le porto dove devono andare loro ma le porto nella direzione dove ha ammazzato altre due quindi se me ne sto zitto loro mi portano direttamente alla loro morte poi però decide di prendere la strada che lui sapeva essere giusta e le ragazze prima protestano poi vedono che le sta portando all'università e queste due ne usciranno sane e salve perché lui in quel momento era riuscito a trattenersi a quanto pare i giorni in cui era più incazzato con la madre aveva meno autocontrollo invece quel giorno non ci aveva litigato con sua madre quindi queste due ragazze se la sono cavata per un pelo sì ma infatti quando lui poi la sera prende Rosalind le penultime due vittime era la sera di un grosso litigio con sua madre e tra l'altro c'è anche un'altra c'è anche un'altra storia su due autostoppiste madre figlia piccola che si sono salvate perché praticamente lui appunto dà il passaggio a questa madre figlia piccola e non al compagno di lei perché lui non doveva andare via solo loro due e praticamente lui dice Ed era propenso a ucciderle se non che mentre sta andando via guarda in uno specchietto retrovisore e vede il compagno di lei che si segna la targa della macchina e quindi in corsa decide di non compiere l'omicidio ah meno male che c'era quello lì che si è segnato la targa e poi lui lui dice che quando ha riportato queste scusa faccio un altro passo indietro quando riporta queste due ragazze di cui ho appena parlato all'università e quindi non le uccide anche se ce l'ha andato vicinissimo fa una riflessione lui dice o muoio io o muore mia madre oppure continueranno a morire le ragazze quindi si rende conto che lui si è riuscito a trattenersi con queste due ma è stato difficile e che non riuscirà a trattenersi per sempre anche perché a questo punto c'è è già un serial killer comunque nel momento in cui fa questo ragionamento eh sì eh sì infatti il 20 aprile del 73 succede quello che in teoria doveva succedere subito e porre fine alla cosa nel senso quello che ha sempre voluto Ed perché Ed fin da ragazzo poi dichiarerà che lui entrava in camera di sua madre di notte mentre le dormiva con un martello in mano per sfondare ma non ha mai avuto il coraggio se non che appunto il 20 aprile del 73 dopo essere tornata a casa di sera tardi la madre che era stata fuori forse a una festa così comunque la madre in questo momento ha 52 anni praticamente va a letto si mette a leggere e arriva Ed e lei gli dice suppongo che vorrei essere alzato tutta la notte a parlare ora e lui dice no buonanotte vado a letto va a letto aspetta che sua madre si addormenti quando lei è addormentata entra in camera sua con il martello e comincia a martellarle la testa poi prende un temperino un coltello o quel che è e le taglia la gola e la decapita al che praticamente sfoga tutta la frustrazione fino a quel momento lì perché prende la testa la porta in soggiorno la poggia sulla mensola e comincia a urlarle contro comincia a urlarle contro si sfoga per un'ora poi le tira nel frattempo le tira delle freccette in faccia una roba eh sì mamma mia una roba del genere poi le taglia la lingua le strappa le corde vocali e le butta nel tritarifiuti del lavandino che si sa in america c'hanno tutti i tritarifiuti solo che le corde vocali sono elastiche il tritarifiuti non riesce a tritarle e le risputta fuori e lui dice ecco anche in questo anche in questo caso qua non sono riuscito a farti stare zitta o una roba del genere esatto e poi dice anche dice anche un'altra cosa dopo perché vabbè ci stava arrivando chiaramente poi utili cioè lui in un'intervista dice ho umiliato il cadavere di mia madre e umiliato non è solo che gli lanciava le freccette ma nel senso ha rapporti sessuali col cadavere di sua madre come faceva anche con gli altri cadaveri e lui soffriva del fatto che sua madre spesso gli diceva sono sette anni che non faccio sesso per colpa del mio figlio assassino chiaramente il figlio assassino faceva riferimento ai nonni lei non sapeva di tutti gli altri ovviamente e glielo ripeteva spesso questa cosa e lui si arrabbiava molto di questa cosa quindi dopo aver fatto pratiche sessuali con il cadavere di sua madre le dice ecco finalmente hai fatto sesso sei contenta esatto poi vabbè secondo me non glielo ha detto veramente l'ha detto poi all'intervista per atteggiarsi per quel discorso lì che lui si atteggiava esatto però è interessante la cosa che le strappa la lingua e le corde vocali eh molto molto perché appunto è perché lei lo vessava sempre lo rimproverava lo sgridava litigava gli urlava in faccia ma fin da quando era piccolo e tra l'altro è una cosa che si ritrova in tanti omicidi figlio madre nel senso che spesso i figli accoltellano accoltellano strozzano le madri alla gola cioè accoltellano la gola strozzano le madri proprio per farle stare zitte e questo Ed l'ha portato ovviamente all'estremo perché appunto così il fatto è che eh praticamente anche Sally Hallett che è una un'amica della madre di di Ed rimane coinvolta nella storia perché il piano di Ed è eh uccido anche lei e poi dico che sono andate via per un viaggio quindi invita Sally di 59 anni a casa sua a mangiare la sera a vedere un film quel che è lei va appena entra in casa ovviamente lui la sofoca la coltella la decapita e anche con lei cioè anche con lei e nasconde il corpo di Sally in un armadio il problema è che cos'è che è presente qualche giorno prima Ed era stato perquisito era stato fermato proprio sotto casa di sua madre perquisito per per possesso di arma da fuoco perché volevano controllare la sua 22 perché ovviamente avevano trovato i corpi delle ragazze precedenti che non avevano trovato i proiettili ma i fori erano piccoli nel corpo infatti Rosaline Torpe e Lison Liu quelle che aveva in macchina quando è stato fermato dalla guardia del campus eccetera non erano proprio morte lui le aveva sparato con la 22 e come abbiamo detto più volte la 22 se ti prende bene fa danni se non ti prende bene ti lascia in vita ok e quindi era stato perquisito gli avevano volevano vedere la 22 però non avevano proiettili per e quindi Ed è abbastanza angosciato da sta cosa pensa che la polizia gli sia addosso sì quindi cosa succede prende e parte parte guida per tre giorni e tre notti si fa mille miglia che non so quanti chilometri sono ma sono tantissimi sono tanti perché un miglio non è mica un chilometro e mezzo più o meno una cosa del genere sì una cosa del genere quindi sono sì 1500 chilometri più o meno è una misurazione fatta a molta span sì siamo lì siamo lì lui praticamente guida fino a Pueblo in Colorado convinto che la polizia gli sia le calcagne tra l'altro lui guida ininterrottamente lui prende pastiglie contenenti caffeina caffè eccetera per stare sveglio e continuare a guidare arrivato a Pueblo in Colorado si rende conto che la polizia non lo stanno cercando non lo sta cercando però è estremamente stanco e stufo ormai l'arco dei suoi omicidi l'ha l'ha compiuto perché poi verrà fuori che le ragazze erano per dimostrare a sua madre che in realtà lui poteva possederle cosa che lei diceva e sua madre perché era la persona che più lo faceva soffrire ovviamente e chiama la polizia e dice guardate che ho ucciso mia madre eccetera e sono qua a Pueblo in Colorado la polizia ovviamente sapendo chi era Ed che era l'amicone di tutti il logorroico rompicoglioni ma simpatico ovviamente non gli crede all'inizio però vanno a controllare a casa e trovano la casa in perfetto ordine sul tavolo tra l'altro c'è un biglietto che dice non c'è bisogno che lei soffra più per mano di questo terribile macellaio assassino è stato veloce mentre dormiva proprio nel modo in cui lo volevo non sono sciatto incompleto signori scusate il disordine la mia è solo una mancanza di tempo perché ho delle cose da fare aveva lasciato sul tavolo del salotto un biglietto per la polizia chiedendo scusa per il disordine che aveva lasciato in casa cosa che in realtà non c'era no però appunto la polizia comincia a guardare in casa e trova in due armadi diversi il corpo di Clarner e il corpo della sua amica Sally al che vanno a prendere Edda Pueblo in Colorado e niente lo arrestano tra l'altro poi per convincerli ad andare a controllare ha dovuto fare due telefonate alla polizia perché alla prima gli hanno detto ah scherzone ok allora lui resta lì un po' così decide di richiamare e si fa passare un poliziotto con cui lui parlava spesso al bar e questo poliziotto capisce che non stava facendo lo scherzone e manda a controllare esatto sì perché il problema è quello lì che lo conoscevano come appunto Big Ed era cioè nessuno si dicono che nessuno nessuno si immaginava che potesse fare delle cose del genere certo ok e quindi niente quindi nel 73 lo arrestano il processo ci sarà il 10 il scusate il 23 ottobre del 1973 e lo psichiatra Joel Forte che lo esamina prima dice varie cose A è quello che appura o comunque del cannibalismo perché tra l'altro lo psichiatra lo sottopone anche al siero della verità poi non so se questa cosa qui va queste sono tutte cavolate però in quel periodo sperimentavano con un po' di cose sì 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 e appunto lo psichiatra Joel Forte dice che è psicopatico ma completamente capace di intendere di volere lui al processo chiede la morte per tortura lui dice che lui deve essere condannato alla morte per tortura però nel 72 nel 73 in California la pena di morte era stata sospesa cosa che va di lusso anche a Charles Manson e alla sua famiglia sì e quindi gli viene dato praticamente l'ergastolo per tutti gli otto omicidi e quindi praticamente il carcere a vita e viene e viene rinchiuso lì in California insieme ad altre simpatiche persone esatto esatto tra l'altro poi chiede quando gli dicono che non lo possono condannare a morte chiedono all'obotomia che non ha tutti i torti in effetti cioè ora io in generale sono abbastanza contraria a questo tipo di pratiche però se c'è una persona che avrebbe potuto trarre giovamento dalla lobotomia probabilmente era lui quindi però non gliel'hanno fatta non gliel'hanno fatta lui sì in questo carcere vabbè ripete la stessa cosa che fa amicizia con le guardie prigioniero modello queste robe qui e poi quando viene arrestato si ritrova nello stesso carcere di di Herb Mullen quello di cui abbiamo parlato prima Mullen che era stato arrestato prima di lui ok Ed parla che quando l'hanno preso l'hanno messo nella cella prioritaria che prima era di Mullen e quindi Mullen si è preso male con lui perché praticamente l'hanno messo in una cella normale lui era in quella prioritaria che si chiama prioritaria perché è quella più vicina a dove sono le guardie quindi possono intervenire subito che però ha anche la doccia privata attenzione che probabilmente non era per dare un lusso al prigioniero più pericoloso era solo per non doverlo mettere insieme agli altri quando si fa la doccia però veniva preso come un lusso e quindi Mullen inizia che ce l'ha con lui di brutto e Ed allora decide di cercare di essere gentile con lui e decide che dato che Mullen è uno che disturba perché non è a posto ok è quello che ha ammazzato un prete una famiglia intera un barbone un gruppo di ragazzi che stava tipo giocando a basket quindi cose che non c'entrano niente l'una con l'altra è uno disturbatissimo no disturbato in un modo diverso da camper sì sì Mullen era proprio il classico schizofrenico paranoide perché lui diceva che era Dio che gli ordinava di decidere le persone per un bene superiore per la salvezza del mondo e quelle cose lì esatto quindi era completamente fuori di testa e creava problemi in carcere faceva casino e poi gli piaceva fare questa cosa che lui si metteva lì a scrivere tutto il giorno si scriveva tipo dei discorsi e poi la sera quando i carcerati sono tutti lì che stanno cercando di guardare Saturday Night Live che Saturday Night Live c'ha da 45 anni quindi si guardavano Saturday Night Live che è un programma comico per chi non lo sapesse di sketch comedy e mentre partiva Saturday Night Live Mullen si metteva a fare questo discorso sul male della televisione e proprio a squarciagola quindi disturbando i detenuti che volevano solo guardarsi sto cazzo di Saturday Night Live oppure quando non scriveva i discorsi si metteva a cantare a squarciagola stonato e allora Kemper decide che è sua responsabilità fargli una terapia di modifica del comportamento cita Pavlov ad esempio che era quello dei cani con la campanella e quindi dice che vuole fare vuole praticamente trovare un modo di far focalizzare Mullen sul positivo e non sul negativo perché diceva che il problema di Mullen era che lui era sempre in paranoia e odiava sempre tutti e quindi con lui si mostra molto gentile e inizia a regalargli le arachidi perché Mullen andava pazzo per le arachidi Kemper per qualche motivo aveva tanti soldi nel non lo so come si chiama il negozietto della prigione e si faceva scorta di arachidi e quando Mullen si comportava bene gliele dava se Mullen si comportava male lui o degli altri carcerati che lui aveva assodato a questo compito gli buttavano l'acqua addosso e le guardie erano tutti molto contenti perché a quanto pare questo metodo ha funzionato e ha calmato molto questo pazzo ora io non lo so se sta storia è vera o è la solita cosa perché come dicevo prima Kemper si atteggia nelle interviste però l'ho trovata molto divertente anche perché poi proprio le guardie che approvano il suo operato poi lui dice beh io ne so qualcosa di psicologia quindi ho fatto questa tecnica per modificare il comportamento vabbè niente tutte queste cose sì anche perché quando parlavamo appunto all'inizio che lui era stato messo nel adatto a scadere o nel manicomio criminale eccetera e lui che intervistava gli altri carcerati non è che lo faceva così per farsi vedere lo faceva proprio per capire loro dove avevano sbagliato e tra l'altro li considerava tutti degli inetti degli incompetenti perché facevano errori grossolani cosa che lui diceva che non avrebbe fatto perché era più intelligente di loro e però si segnava tutti i loro metodi e le cose e tra l'altro è lì che poi dirà che è arrivata alla conclusione che se tu violenti una donna poi devi ucciderla perché è la cosa più sbagliata è lasciare testimoni eh sì che a livello di ragionamento logico torna in realtà quindi sì 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 cioè lui è in grado di fare ragionamenti logici sensati è che è proprio pazzo a livello lui è tipo un incel all'estremo perché spesso lo dice anche sempre appunto io continuo a citare le interviste perché ragazzi ce ne sono una tonnellata ma proprio su youtube le trovate le cercate ci sono ore e ore di interviste a Ed Kemper fatte in momenti diversi della sua vita tra l'altro Ed Kemper al contrario di tipo tutti gli altri serial killer gli viene data una una condanna particolare perché come abbiamo detto sì Otto Ergastoli ma attenzione non è non è life in prison without possibility of parole che è quella che danno di solito agli amici di seriali no a lui danno Otto Ergastoli che però corrispondono in sette anni da sette anni alla vita quindi lui dopo sette anni può chiedere l'udienza per la libertà condizionata e attenzione di solito quando danno più Ergastoli li danno da servire uno dopo l'altro quindi ad esempio c'era cos'era Jeffrey Dahmer gli aveva andato novecento anni se facevi il conto no e invece a lui glieli danno concorrent quindi concorrenti cioè concorrenti non nel senso che si sfidano nel senso che sono insieme e quindi lui dopo sette anni può a tutti gli effetti chiedere di uscire cosa che farà perché lui ha fatto diverse udienze per la parole se non sbaglio nell'ottantotto quando aveva quarant'anni è la prima che gli viene accettata perché quando lui ha quarant'anni viene diagnosticato come adatto per il rilascio che io dico ragazzi ma non avete imparato un cazzo da sta storia è tutta partita perché l'avete lasciata andare viene valutata adatto per il rilascio e gli viene fatta l'udienza poi per fortuna gli viene rifiutata chiaramente la libertà vigilata però poi può continuare a chiedere udienze in realtà tante le ha rifiutate lui perché diceva sì sì diceva non sono pronto per uscire poi però alcune le ha fatte e attenzione l'ultima udienza è stata nel 2017 gliel'hanno rifiutato ma gli hanno dato un altro appuntamento tra sette anni dal 2017 e questo vuol dire che Ed Kemper il killer delle studentesse a livello teorico potrebbe uscire nel 2024 sì non uscirà non uscirà però esatto però sì adesso ha 70 e passa anni credo che ne abbia 71 adesso sì sì ha 71 anni e sì in realtà potrebbe uscire nel 2024 però come dicevi tu lui ha spesso rifiutato di presentare domanda per la parola cioè per uscire sulla parola e quelle cose lì a volte appunto gli hanno rifiutato loro poi il il fatto di farlo uscire che secondo me è anche abbastanza giusto e appunto lui tra le tante interviste ha fatto appunto anche quelle con Douglas e Ressler all'inizio nel 78 che poi loro l'hanno intervistato varie volte cioè sono andato a fare con lui varie volte anche negli anni 80 eccetera e tra l'altro lui era nello stesso carcere anche di Charles Manson eh sì che se vogliamo vedere forse Ed Kemper è l'assassino più alto del mondo Charles Manson cioè non so ma è uno dei più bassi perché arrivava al metro e sessanta e e niente questa è la storia di Ed Kemper poi lui ha scritto anche tanto ha pubblicato dei libri che su se stesso che ovviamente non da cui non può ricevere compensi e basta non credo che ci sia molto altro da dire sul su Ed se non che ripeto quello che abbiamo detto all'inizio che ho detto all'inizio che praticamente lui è molto importante perché su di lui poi hanno sviluppato varie teorie su sui sociopatici sui serial killer eccetera che come diciamo sempre è vero che adesso non ci sono più serial killer perché riescono a fermarli prima che compiano tanti omicidi il problema è che i sociopatici ci sono e quindi conoscerli e sapere come intervenire su di loro serve anche a non far sviluppare serial killer esatto e poi tutte queste teorie elaborate grazie a Ed Kemper ci sono grazie al fatto che lui è un logorroico del cazzo sì 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 perché lui è molto autoconsapevole però appunto come mi dicevi tu la tua cosa è che lui è diventato autoconsapevole perché ha voluto razionalizzare dopo perché se avesse razionalizzato prima probabilmente non avrebbe fatto tante cose e anzi sarebbe scappato in realtà non lo so io mi sono sempre chiesto come mai si è rimasto l'inzona di sua madre cioè è vero che lui diceva che sua madre rompeva le balle però anche lui non è che è andato che ne so in Montana o o da altre parti del genere cioè in Alaska in Canada cosa che avrebbe potuto fare lui è sempre rimasto lì in California in sì cioè oddio per un periodo proprio in Montana avevano vissuto con la madre così però poi dopo che è stato rilasciato dall'istituto poi erano tutti in California lui è perché è quello che ho detto prima avevano una vera e propria relazione malata lui e sua madre non riuscivano a darci un taglio che sarebbe stata la cosa migliore di tutti e continuavano a aizzarsi l'uno l'uno con l'altro poi adesso ci sono anche i fratelli cioè le sorelle e i fratellastri di Ed Kemper che comunque sono vivi rilasciano interviste cioè il fratellastro quello che ho fatto riferimento prima quello che quello che sua madre era incinta di lui quando Ed viveva lì che è assolutamente terrorizzato che lui nel 2024 possa uscire dice che tutta la famiglia è in pericolo e secondo lui dovrebbero o buttare via la chiave oppure dargli la pena di morte a suo fratellastro si è comprensibile in realtà sua sorella maggiore Susan mi pare che sia morta può darsi nel 2014 si anche perché lei aveva 5 anni in più di lui quindi comunque ci sta ci sta invece la sua sorella minore non condivide le opinioni del fratellastro lo giustifica un po' di più col fatto che poverino è malato e come madre lei era quella che giocava con lui la camera a gas si era quella che faceva finti tirare la leva dopo averlo legato esatto queste belle cose che ti scaldano il cuore e niente sì dai questa è la storia di Ed Camper speriamo di aver detto in realtà c'è un sacco di roba da dire perché si trova veramente tanto su di lui per i motivi che abbiamo elencato durante la puntata anche se almeno da noi è quello un po' meno famoso sì che mi ha molto mi ha molto stupito questa cosa perché lui è stra interessante però ho notato che è tornato alla ribalta grazie a Mindhunter sì sì perché vabbè brutalmente l'ho visto su TikTok vabbè per chi non lo sapesse faccio anche video su TikTok Clara Campi Comedy e parlo proprio di serial killer e ho notato che Ed Camper piace molto quando parlo di lui e tanti fanno riferimento proprio al fatto ah ma l'ho visto su Mindhunter quindi gli ha dato un po' di notorietà in più che magari non è che si meritasse però ce l'ha avuta esatto esatto e niente quindi anche per questa settimana la puntata è finita come al solito potete commentare ovviamente su YouTube sotto il video tra l'altro se volete iscrivetevi attivate la campanella e bla 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 se no potete contattarci sui vari nostri social che sono Instagram at crimeandcomedy.podcast su Telegram c'è crimeandcomedy e crimeandcomedy group se volete chattare con noi parlare delle puntate anche tra di voi eccetera poi c'è il sito crimeandcomedy.it e poi invece in fondo c'è anche Facebook perché ormai c'è c'è diciamo c'è allora se ci scrivete in privato lì ovviamente vi rispondiamo anche se commentate sotto i post se trovate un post di crimeandcomedy e volete commentare lì sotto fate perché tanto non possiamo mai e niente per il momento finiamo qua finiamo qua vi ringraziamo vi ringraziamo tanto io ci terrei ringraziare tanto perché stiamo avendo veramente una risposta fantastica e se ci volete aiutare ragazzi condividete il podcast assolutamente oltre vabbè a far lasciare le 5 stelle su iTunes quelle cose lì che ci aiutate tanto se lo fate però poi trovo che sia molto utile se condividete i nostri video con altri fanatici di serial killer come voi o solo l'audio su Spotify ma come volete non ci interessa non ci interessa e niente vi ringraziamo come sempre Clara Campi e Marco Champier e a settimana prossima alla prossima ciao ragazzi ciao grazie ciao